Windows Phone è un brand ormai che cominciamo da circa 18 mesi, Nokia ha presentato l'Umea 900, l'Umea 610, altri produttori hanno svelato di Windows Phone che abbiamo già visto, in precedenza come Samsung e Acer. ZDE è uno di quei produttori che crede in un mercato Windows Phone, un mercato che ha diversi prodotti ma sostanzialmente poche differenze tra un prodotto e l'altro. Le caratteristiche sono probabilmente le medesime e più utili di device, in questo caso abbiamo un display da 4.3 pollici sempre con WGA, quindi 880 pixel, la fotocamera è da 5 megapixel, associata a 512 MB di RAM, i tre passi principali delle funzioni di Windows Phone, circa Home e indietro. Abbiamo poi ovviamente il processore da 1 GHz e tutte le funzionalità classiche di Windows Phone con i tiles animati che vanno a popolare la nostra schermata Home, la possibilità di andare a pingare un tiles all'interno del Windows Start, questo era già presente. Ok, questo è una cosa inserita e quindi andare all'interno delle opzioni, vedere tutte le applicazioni, tutte le varie funzioni fatte dal telefono, tutto ciò che quindi è familiare in realtà c'è Windows Phone che è ripreso da ZTE con un'integrazione del sistema precisamente precevole, buona, occhio alla velocità di risultazione avruta da UI in quanto comunque Windows Phone è un sistema operativo decisamente rapido e veloce e con un hardware di questo tipo non ci sono problemi in tutta la gestione delle funzioni. Sensore frontale, jack a 3,5 mm, fotocamera con flash, ovviamente i tasti per le varie funzioni di accendimento e la possibilità di utilizzare il tasto fotocamera fisico per attivare la camera direttamente dal blocco di stand-by e entrare direttamente dalla macchina fotografica. La macchina fotografica che gestisce le foto ovviamente con una velocità buona, perché comunque non c'è un grande ritardo tra una cosa e l'altra, c'è un piccolo ritardo perché comunque una volta scattata l'immagine c'è questa transizione che non permette finché non è finita lo scatto. Come con ZTE e Tania. ZTE non è solo Tania ma è anche Orbit con Windows Phone, identico per caratteristiche generali a Tania perché comunque il sistema è un 27, il display è un pochino più piccolino, caratteristiche leggermente inferiori per quanto riguarda la qualità dello schermo e comunque la qualità hardware. Abbiamo tutti i vari sensori, la fotocamera con flash, il jack, la possibilità di occupare la fotocamera direttamente dal tasto hardware con il Windows Phone, tre tasti frontali, la fotocamera riportiamo tra una fotocamera da 5 megapixel, con il flash, abbiamo poi il display del jack, 512 Mbps di RAM e il registro di Downside. Abbiamo una soluzione quindi ulteriore alla gamma Windows Phone, che si occupi in l'autobico, abbiamo un pochino. Un pochino sul nostro arrivo e si occupi in un'autobico. Chiavi Cazzola! all'estate, ora rimando più da l'autobico. Appropriate la Bune, Oviedo d'un store, i alcuni,